I sindaci delle province di Lecce, Taranto e Brindisi dicono no alle multe emesse nei loro confronti dal commissario Giuseppe Silletti. Dopo il sopralluogo degli ispettori europei tra le campagne di Oria e del nord Salento, sono arrivate delle sanzioni ai primi cittadini delle province interessate dal dramma della Moria degli Ulivi, responsabili di non aver attuato le buone pratiche agricole previste dal piano operativo contro la Xilella. I comuni si sarebbero di fatto rifiutati di provvedere all'eliminazione di tutte le piante potenzialmente ospite del batterio killer, contravvenendo agli edempimenti contenuti nell'ordinanza 225-2015 del capo dipartimento di protezione civile. I primi a incappare nelle multe sono stati i sindaci di Francavilla, Sfontana e di Sandonaci e altri sono in arrivo per le amministrazioni comunali di Lecule, Nardò, Avetrana e Squinsano e per i presidenti delle province di Lecce e Taranto. Ma di passare per trasgressori, i comuni non ci tengono proprio e sono pronti a impugnare le sanzioni considerando il fatto che avevano già fatto presente di non avere le risorse economiche necessarie per rispettare gli obblighi del piano Silletti. Ci ha pensato la stessa regione Puglia a chiedere formalmente al governo di aiutare economicamente le province salentine per fronteggiare l'emergenza olivi. Ai comuni il piano Silletti chiedeva, tra le altre cose, di falciare dalle strade e dalle zone coltivate le erbe spontanee considerate responsabili della diffusione degli insetti vettori di Xilella. Operazioni che dovevano concludersi entro la fine di aprile scorso, ma che per mancanza di personale e attrezzature adeguate, non sono state realizzate. I comuni devono affrontare, oltre il danno dell'eradicazione degli olivi, anche la beffa delle multe.